Schindler Ahead Door Show trasforma le porte del vostro ascensore in una piattaforma di comunicazione. Anche l'attesa diventa entusiasmante. I contenuti multimediali catturano l'attenzione dei passeggeri, informandoli, coinvolgendoli e intrattenendoli, mentre voi potete approfittare dei proventi aggiuntivi di promozioni interne e pubblicità. L'avanguardistico proiettore non soltanto si adatta perfettamente alla larghezza delle porte dell'ascensore, ma smette di visualizzare i contenuti non appena le porte si aprono e riparte in automatico quando sono completamente chiuse. Schindler Ahead Door Show dispone di un'installazione e manutenzione completa, nonché di un sistema di gestione contenuti estremamente chiaro. E grazie alla connettività Schindler l'inserimento dei contenuti sullo schermo è istantaneo, semplice ed efficace. Aggiungiamo l'extra all'ordinario. Grazie. 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 Grazie.